Ragazzuoli, ciao a tutti, buon venerdì, è praticamente finita una settimana un po' più curta delle altre perché ovviamente con il mezzo, il primo di novembre, siamo magari rilassati una giornata in più però siamo arrivati al termine e tra l'altro ovviamente iniziamo a prepararci nel weekend per una partita molto molto delicata, molto molto importante e oggi cercheremo di parlare sia della partita con l'Inter sia di tirare un attimino una riga e dare una valutazione generale a quella che è stata la nostra Champions League ho intenzione poi alla fine del giorno d'andata perché non sarà così ma dopo Juventus Lazio di fare un attimo un'altra analisi generale complessiva su quella che è stata la stagione fino a questo momento in attesa del ritorno post mondiali perché credo che sia molto 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 importante andare a valutare passo per passo quando avremo i dati definitivi ora i dati definitivi sulla Champions li abbiamo possiamo ragionarci insieme non possiamo ancora farlo per la Serie A e quindi aspettiamo un attimo prima di tutto però io vi invito intanto a mettere un mi piace a questo video cerchiamo di arrivare che ne so 2000 like li facciamo? secondo me sì, molto tranquillamente e poi a scaricare il numero 10 perché? perché poi lunedì ci sarà l'estrazione ok? nell'urna di Nyon e capiremo quale sarà il nostro avversario che affronteremo nello spareggio per entrare ufficialmente in Europa League quindi scaricatevi il numero 10 perché lì potremo seguire anche un attimino tutte le estrazioni e ci sono anche i nomi dei candidati che potremo estrarre come può essere il PSV Endoven oppure il Monaco Manchester United di Ronaldo e altre squadre un po' più semplici però abbiamo la possibilità di ribeccarci subito il Sium e sapete che sarebbe interessante per quanto mi riguarda poi è ovvio che nello spareggio togliere una tra Juventus e United non è proprio il massimo però in generale beccare Ronaldo non mi dispiacerebbe ma questa rimane la mia umile opinione allora perché questo video? perché troppi l'altra sera si sono arrabbiati perché ero soddisfatto della prestazione che abbiamo fornito contro il PSG ragazzi 12, 13, 14 assenti quelli che erano in ogni idea con tre giocatori che in Champions prima di questa non ci aveva mai giocato né i titolari contro una squadra che il PSG doveva venire a Torino e fare una partita decisamente migliore rispetto a quella che ha fatto perché andava a giocarsi il primo posto nel girone io ho avuto la fortuna di vedere entrambe le partite andate in ritorno dal vivo e vi posso assicurare che l'andata a parte un secondo tempo in cui proviamo una timida reazione al primo tempo ragazzi non c'è stata partita mai non siamo mai stati in grado di riuscire a venire fuori da quello che era il gioco del PSG che se vogliamo è un gioco tra virgolette brutto perché il PSG non è una squadra che gioca bene ma è una squadra che incanta con le giocate dei singoli e anche l'altra sera tranne per quelle occasioni create da Mappé c'è stato niente anche Messi per dire mi ha deluso tantissimo io Messi avevo già visto giocare dal vivo in più occasioni dall'altra sera è sembrato un giocatore normale normalissimo quindi PSG ha deluso certo ma quelli sono abbastanza a fare loro poi noi dobbiamo valutare quella che è la risposta della Juventus è probabilmente una partita di grinta, di cuore, di voglia come quella che abbiamo visto col PSG quest'anno non l'avevamo ancora mai fatta e l'abbiamo fatta nella totale emergenza probabilmente contro l'avversario più forte incontrato fino ad ora in tutte le competizioni e probabilmente perché era inutile io la leggo così probabilmente la Juventus è riuscita a tirar fuori qualcosa in più proprio perché la partita era inutile e sapeva che non doveva giocarsi niente quindi c'era molto più tranquillità a livello mentale ma è ben diverso essere contento per la prestazione fornita in situazioni di emergenza contro una squadra sulla carta forte con il PSG in un contesto in cui ero convinto di andare allo stadio e vedere 4-5 gol del PSG perché quello era il rischio rispetto ad essere contenti da tutta la Champions della Juve chi è che può essere contento della Champions della Juve ma poi banalmente chi è che può essere contento di una sconfitta perché io non sono contento del risultato sono contento della prestazione offerta in quella situazione perché sarei semplicemente un disonesto a dirvi che non mi è piaciuta la Juve col PSG perché la Champions della Juve è andata male o perché abbiamo perso io ve l'ho sempre detto io sono un risultatista sporco io preferisco sempre una vittoria brutta ok? rispetto a una sconfitta bella ma ve l'ho sempre detta sta cosa da sempre da prima che Allegri iniziassi a tirar fuori i bellini perdenti bruttini vincenti quella roba lì io preferisco vincere cioè la tranquillità che ti dà una vittoria secondo me è sempre di più rispetto alla tranquillità che ti dà una buona prestazione che arriva con una sconfitta per quanto proviamo a proprio descrivere Lecce Juve mi ha dato più tranquillità rispetto a Juve PSG più tranquillità nel senso più respiro dal punto di vista della classifica l'abbiamo vinta sì l'abbiamo vinta male sì abbiamo rischiato addirittura che Lecce pareggiasse l'ultimo secondo sì però c'è scritto più tre ed è una roba che quella lì rimarrà ma perché? ma perché sono abituato anche quando si gioca proprio a calcio che la vittoria è una cosa quando porta a casa i tre punti è una cosa e quando perdi è un'altra anche se perdi facendo la tua partita l'altro giorno ci è capitato di giocare abbiamo creato dieci palle goal non l'abbiamo fatto quella finita a zero a zero non ero contento perché aveva giocato bene e creato tante palle goal ero triste perché aveva lasciato due punti per strada quindi è proprio una roba mia personale poi ognuno può avere la sua percezione io tante volte negli anni ho ripetuto questa cosa e le persone mi dicevano no io preferisco invece perdere con una buona prestazione l'altra sera non si può dire che non ci sia stata una buona prestazione perché la Juventus meritava assolutamente di più del PSG poi magari una vittoria sarebbe stata troppo perché poi se tu non sei effettivamente in grado di fare un gol in più dagli avversari è giusto che non vinci però sulla carta per quelle che sono state le cose che ho visto in campo e per quelle probabilmente che sono state anche le percezioni che avevo prima e le paure che avevo legate alle assenze almeno il pari poteva essere il risultato giusto almeno il pari poi io ribadisco non sarò mai contento per una sconfitta non ce la farò mai però sono un risultatista sporco non è che la partita di Lecce abbiamo preso i tre punti e quindi va bene così perché abbiamo preso i tre punti mi ritengo però poi analizziamo la prestazione che non mi è piaciuta che non mi è piaciuta e che servirà di più in assoluto di più perché questa Juventus è fatta per fare di più di quelle prestazioni lì decisamente di più sono tremendamente insufficienti quindi non posso semplicemente dire abbiamo vinto quindi a posto come non posso semplicemente dire l'altra sera abbiamo perso quindi facciamo schifo perché se prendo in generale la Champions della Juve noi abbiamo giocato sei partite ne abbiamo vinta una e ne abbiamo perse cinque che poi dicono che quando vado allo stadio non si vince ho visto l'unica vittoria della Champions League della Juve dal vivo poi vabbè ho visto le due sconfitte col PSG quest'anno ho fatto soltanto tre partite sono state tre di Champions ma ho visto l'unica vittoria alla faccia vostra la Juve perde anche quando sto a casa quindi quello non è un problema anche se andiamo un attimo a ragionare sui gol ne abbiamo presi tredici e ne abbiamo fatti nove cioè troppo poco tra l'altro ieri leggevo che il minimo con cui è passata una squadra in Europa League quindi da terza di punti è stato due col Borussia Dortmund che è anche il minimo di punti in assoluto per poter retrocedere in Europa League noi abbiamo fatti tre che l'altra sera qualcuno mi diceva non è che la Juve ha raggiunto l'Europa League e il Benfica gliel'ha regalata ma ragazzi è la stessa cosa è la stessa cosa è identica la Juve ha comunque raggiunto l'Europa League perché gliel'ha regalata al Benfica è assolutamente accaduto poi ribadisco secondo me la Juve meritava almeno il pari l'altra sera poi se il Maccabi fa peggio di noi all'interno del girone è giusto che il Maccabi non arrivi terzo poi voi mi direte sì però il Maccabi è una squadra più scarsa ha fatto i tuoi stessi punti quindi magari meritava di più anche perché ti ha battuto e quello è un altro discorso ora ci può stare sono d'accordo con voi probabilmente la squadra che meritava a livello di meritocrazia per quello che è stato il percorso generale quello che è il livello di partenza di andare in Europa League tra Juve e Maccabi non è la Juve è il Maccabi però poi le regole lo sport la concessione la costruzione del giro di Champions League ti dice che ci va la Juve perché è giusto che ci vada la Juve secondo quelle che sono le regole di oggi ma non è che gliel'ha regalato il Benfica le ha regalato il Benfica il PSG e il Maccabi come al Maccabi è stata negata dalla Juve il PSG e il Benfica cioè a volte sembra quasi che si voglia per forza di cose andare contro Juve anche quando non c'è da andare contro Juve cioè contro Juve la critica alla Juve la si fa quando ci sono delle cose che non vanno bene che non stanno funzionando si critica la Juventus il fatto che si fa tre punti in un giro di Champions che si perde dal Maccabi di Haifa che si vinca una partita e se ne perdano cinque quelle cazzo sono critiche quelle sono critiche da fare non il fatto che non l'ha conquistata la Juve e gli ha regalato al Benfica quello è proprio il gusto di voler andare ma anche voler sminuire questa prestazione qua col PSG in questo momento di emergenza lo si fa proprio con il gusto di dire aggiungiamo un'altra cosa che non va alla Juve che ha perso dal PSG quelli che non sono soddisfatti di quella prestazione lì io voglio capire qual era la loro sensazione nel pre-match prima che iniziasse la partita cosa pensavano di strabattere il PSG di vincere 4-5 gol a 0 perché se la risposta è sì ragazzi non so queste sensazioni queste emozioni questi pronostici da dove possono essere venuti fuori tanto che fino adesso abbiamo fatto schifo cagare schifo fino adesso e che il PSG non aveva mai perso in stagione mai quindi vorrei capire da dove vengono queste questa volontà di dire che la Juventus no invece doveva vincere quindi dato che ha perso ha fallito certo che ha fallito ragazzi siamo usciti dalla Champions League a ottobre cioè se devo dare un voto a sto schifo che abbiamo visto fino adesso oscilla tra il 2 e il 3 forse 2 perché hai perso pure dal Maccabi a 3 non ci arrivo neanche a darglielo secondo me la nostra Champions League non è nemmeno da 3 è da 2 è da 2 però se vi devo dire che invece la partita l'altra sera per il contesto che era e per i presupposti che c'erano è stata una partita dove meritavano di perdere non posso dirvelo non posso dirvelo perché sarei disonesto sarei terribilmente disonesto e adesso c'è l'Inter ragazzi adesso c'è l'Inter l'Inter che non è una squadra che sta troppo meglio di noi è vero hanno passato il Girone in Champions il Girone è anche tosto difficile quindi complimenti loro noi siamo l'unica squadra che esce l'unica italiana che esce ai Girone della Champions quando negli anni precedenti era l'unica squadra italiana che andava avanti in Champions League invece il Milan 4-0 passa il turno l'Inter l'aveva già passato il Napoli ha fatto il miracolo e è passato per primo ma Napoli veramente in questo momento super squadra ha perso una partita in stagione dal Liverpool a Danfield e direi che si può stare si può perdere dal Liverpool a Danfield assolutamente soprattutto se vinci l'andata in casa tua l'Inter è lì l'Inter ha 24 punti l'avvento se ne ha 22 cioè vincere in casa tua con l'Inter ti dà la possibilità di riproiettarti in alto all'interno della classifica di Serie A e se poi aggiungiamo che c'è un Elas Verona che in questo momento ragazzi l'Elas Verona è penultimo con 5 punti 24 gol subiti questa è la peggiore difesa del campionato che dovrebbe essere sulla carta una partita molto facile e dopo una Lazio che è comunque sopra di te che pare all'Inter sempre in casa tua perché Inter e Lazio in casa tua tu in questo momento ti metti nella posizione di dire ho fallito un obiettivo stagionale è stato un fallimento clamoroso terrificante bruttissimo epocale generazionale l'ho fallito ho fatto schifo voto 2 in Serie A sono indietro sono al settimo posto mancano tre partite poi c'è il mondiale ci fermiamo dove potremo anche recuperare tutti questi calciatori che in questo momento sono assenti però ho visto mi sono accorto mi sono reso conto che ci sono alcuni giocatori che non hanno lo status internazionale non hanno l'ingaggio da top player non hanno la storia da giocatori fenomenali non hanno vinto giocato in club incredibili ma sono un giocatore che è venuto su dalla Serie B ha fatto promuovere la Cremonese è stato il miglior giovane della Serie B che è tuo ed è gobbo fino al midollo che è Niccolò Fagioli che nelle ultime due partite ha dimostrato di essere un giocatore di rampa di lancio ho un Miretti che Allegri considera perché si vede che lo considera un giocatore della prima squadra a tutti gli effetti non lo vede nemmeno più come un giovane Miretti perché ha iniziato usare il bastone su Miretti e non lo fa Allegri con i giocatori giovani usa la carota solitamente Miretti lo vede già con lo status ho un Gatti che in questo momento partita dopo partita sta iniziando a dimostrare sempre di più perché qualcuno è già qui che mi dice Gatti è un mediocre ma ragazzi ma Gatti faceva il falegname quattro anni fa ma non ha mai giocato a questi livelli ma che cosa vi aspettavate un misto tra Nesta e Cannavaro perché poi quando leggo certe cose mi girano poi mi girano certo che Gatti non è pronto ad essere a livello Juventus ma dai e ridai e ridai e lo metti in campo e gli fai fare prestazioni gli aumenti il livello lo fai giocare in Champions gli lo fai magari giocare anche con l'Inter o magari no perché rientra Danilo e rientra Bremer però fino a questo momento Gatti le sue prestazioni te le sta facendo e stai vedendo la differenza di voglia tra quello che ormai è arrivato e quello che sta iniziando il percorso perché Ealing entra con l'Empoli con Lecce con il Benfica e ti fa vedere che c'ha dei colpi che Sule che fino adesso non mi ha ancora convinto al 100% è quello che con il Lecce prova l'unico l'unico che prova a saltarti l'uomo l'unico l'unico e allora diamo continuità a questa roba qui diamo continuità alla crescita di questi ragazzi quando torneranno i Paredes i McKennie i Pogba i Di Maria io voglio che il posto se lo sudino in allenamento e voglio che il mister questi occhi non li utilizzi per guardare ma per capire chi merita di giocare perché a me non me ne frega niente che Di Maria abbia vinto una Champions e forse vincerà il Mondiale a me non me ne frega niente che Pogba sia campione del mondo in carica e che abbia vinto un'Europa League a me non me ne frega niente che Paredes sia il regista dell'Argentina e l'ex regista del PSG e che abbia sempre vinto a Parigi non me ne frega niente che McKennie abbia i tempi di inserimento forse migliori che abbiamo nei giocatori e forse anche quello che in questo momento ha dimostrato di avere più gol nelle gambe non me ne frega niente perché se c'è un altro più in forma che ti dà più qualità più palleggio più libertà anche di costruire delle manovre magari per aiutare Vlaovic maggiormente rispetto a quella prigione che gli abbiamo costruito in questa prima parte di stagione non me ne frega niente di chi sei come ti chiami da dove vieni quanto costi quanto ti abbiamo pagato e quanto ti paghiamo non me ne frega niente perché in questa stagione di disastrosa alla fine dell'anno dobbiamo riuscire a portare a casa qualcosa di concreto per non tornare sul mercato e pagare 20 milioni di euro un Paredes che sapevamo essere afflitto da mille problematiche e che guadagna 7 milioni di euro all'anno ma c'è Rovella magari che metti all'interno della cabina di regia non me ne frega niente di rinnovare Rabiot ad altri 7 milioni di euro all'anno perché c'è Miretti e la mezzala la fa lui al suo posto non me ne frega niente di dover andare a cercare il centrocampista minchia Cassi super power Fagioli è rinnovato magari non saranno pronti per essere titolari è certo però se poi non le giocano queste partite come fanno ad essere titolari possono essere magari delle buone riserve per un titolare certo però allora vuol dire che devono aumentare già oggi il minutaggio ma non è che ve lo sto dicendo perché ho un feticismo nei confronti di Miretti o di healing o di suleo di Fagioli lo sto dicendo perché il campo parla il campo sta parlando e ti sta dicendo che quando questi giocano si vede una voglia differente in questi ragazzi che si traduce magari anche i risultati che non ti saresti aspettato perché magari la vittoria con Lecce non sarebbe arrivata senza il gol capolavoro di Nicolò Fagioli e perché magari la bella prestazione col PSG non sarebbe arrivata senza la fame la voglia la grinta dei giocatori che in Champions se ci avevamo mai giocato e quella sera contro Messia ma poi volevano dimostrare di essere pronti ad essere il futuro di questa Juventus e allora adesso hai due strade Inter e Lasverone Lazio o approfitti della partita facile contro una squadra da retrocessione e dei due scontri diretti per fare nove punti che vorrebbero dire da quanto ricordo sei vittorie consecutive in Serie A per poi andare a ricandidarti per il fine per il fine primo blocco stagionale per almeno le posizioni europee perché vincendo queste tre partite per forza di cose arrivi a giocarti l'accesso alla Champions Liga arrivi che ne so non ti dico che prenderai il Napoli perché è impossibile magari neppure l'Atalanta e il Milan però sopra Roma e Lazio magari sì e quindi vuol dire che entri nelle prime quattro già e guardare la classifica sapendo che per due mesi non giochi nelle prime quattro perché hai fatto nove punti ci sta ma dall'altra parte se da un punto di vista hai la possibilità di riaprirti la stagione almeno per l'obiettivo minimo che comunque per un tifoso della Juve non può essere un obiettivo lo diventa soltanto a livello economico per non cercare di dover cedere per forza di cose un altro giocatore quest'estate come è stato per dritte l'anno scorso comunque Champions raggiunta e quindi qui occhio a Blaovic perché io ho questa fobia questo terrore incredibile dall'altra parte se le perde queste partite cosa succede? che cadi nell'oblio più profondo nell'oblio più profondo io l'altro giorno vi dicevo la Juventus dovrebbe ormai aver deciso cosa fare con Massimo Allegri o vai avanti o lo cambi il 13 per me il fallimento Champions è troppo grande troppo grande e il fatto di aver perso dal Monza dal Maccabi sono cose troppo grandi non si può andare avanti insieme anche perché io continuo a dire per quanto mi riguarda non c'è più questo rapporto tra squadre Allegri così profondo a me non sembra che che siano tutti sullo stesso lato non mi pare però è una mia impressione è una mia sensazione e basta e non so se la Juve ragionerà davvero su queste tre partite la testa dice non dovrebbe farlo dovrebbe aver già deciso però poi ragiono un attimino su quelle che sono state le decisioni della Juventus negli ultimi anni e mi viene davvero a pensare che la Juve possa in realtà dire sai cosa vediamo come vanno queste ultime tre partite poi decidiamo perché fino adesso vi ho detto che c'è da essere soddisfatti della prestazione che c'è stata col PSG ma questo non significa che l'ambiente Juve debba essere positivo perché si è perso perché poi va guardato quello perché poi siamo tutti risultatisti è inutile girarci intorno è inutile girarci intorno perché cosa facciamo alla fine guardia la classifica perché cosa facciamo alla fine riassumiamo una vittoria su cinque su sei con cinque sconfitte nel giro dei Champions è quello il riassunto è uno x o due è tre punti un punto zero punti è quello che compone le annate che scrive la storia che scrive gli albi d'oro che scrive gli esoni le conferme gli acquisti le eccezioni quello è il palo del Lecce il palo del Lecce è una sliding door perché fai più tre invece che più uno è una sliding door quindi è quello che conta poi io mi auguro che le prestazioni e le vittorie possano arrivare appunto sulla falsa riga le vittorie possono arrivare sulla falsa riga della prestazione come quella col PSG perché mi piacerebbe vedere una Juventus che riesce a tirare in porta verso la porta dieci quindici volte ogni partita invece che due tiri a caso come quelli che abbiamo fatto contro il Lecce è questo è semplicemente questo perché dobbiamo anche dare un attimino una stersata a questa stagione e a questa squadra perché io ricordo che con Pirro mi lamentavo e vi dicevo questa è una squadra che può vincere da tutti ma può perdere da tutti e mi lamentavo e mi lamentavo perché la Juve non può essere una squadra passa stile passa Inter che vince da tutti e perde da tutti non può esserlo la Juventus deve essere un'altra roba Allegri ha detto la Juventus è costruita per vincere non stiamo vincendo però non stiamo vincendo perché questa è una squadra che può perdere da tutti e vincere da pochi cioè qua si riscrive il proverbio il detto il modo di dire rispetto per tutti paura di nessuno qui è paura di tutti rispetto per nessuno qui siamo veramente ai livelli in cui c'è da farsi il segno della croce però c'è anche in quei piccoli momenti magari a caso magari fine a se stessi perché secondo me la bella prestazione col PSG è fine a se stessi e con l'Inter già torniamo a vedere una prestazione inqualificabile ma in quelle serate in cui la Juventus fa qualcosa di diverso che esce dai binari della mediocrità che abbiamo affrontato fino adesso io non riesco a capire come il tifoso di Juventino non riesca a riconoscerlo non dico essere contento soddisfatto perché lì è impossibile durante una stagione in genere no non ce la fai però a riconoscerlo perché se tu nella prestazione di Lecce e nella prestazione che fai col Maccabi in trasferta e la prestazione che fai col PSG all'andate le prestazioni che fai il PSG con il ritorno secondo te sono tutte la stessa prestazione allora c'è qualcosa che non va devi rivedere un attimino il concetto di analisi calcistica perché non è la stessa partita non lo è assolutamente non lo può essere a maggior ragione in un momento di difficoltà numerica numerica perché qua ragazzi siamo di fronte a un cataclisma non mi viene in mente una parola più grande di cataclisma per descrivere la situazione infortunita da Juventus e qui qualcuno dovrà pagare qui qualcuno dovrà pagare qui qualche testa dovrà cadere non possiamo dire che sfiga che sfortuna è andata così ma bisognerà fare qualcosa qui bisogna fare qualcosa seriamente qui bisogna decisamente individuare il problema capire qual è stata la causa di tutti questi infortuni muscolari e capire che cazzo sta succedendo e termino termino dicendo che con Federico Chiesa è tornato però non dobbiamo montarci la testa e pensare che possa partire titolare con l'Inter con l'Elas Verona con l'Alazio perché Chiesa già l'altro giorno ha accelerato i tempi di recupero perché Ken si era fatto male pure lui e io non voglio rischiare non voglio rischiare non voglio rischiare di perdere nuovamente Chiesa non dico per un infortunio grosso ma anche solo per un'ercaduta muscolare che in questo momento è molto facile soprattutto per il suo modo di giocare e dove abbiamo visto già in questo momento non tira indietro la gamba scusate vi dilungo anche oggi ma c'era da riassumere un po' di informazioni